Mi chiamo Gianni, vengo da Ragusa, faccio il parrucchiere, ho a gennaio 28 anni e non lo so, questa è una nuova esperienza, speriamo bene, di finire sul web non ne so nulla, vediamo un po' cosa ne verrà fuori. E' stato un piacere, ringrazio la possibilità che mi avete dato di esprimermi, spero che passi una buona serata e che abbia fortuna in questo spettacolo, show, reality, è tutto.